Sei pronto Vale? Eccolo qui Aia Allora per ora lo sto trovando anche meno irritante del vanilla Ehi va bene va bene Ok si è incazzato Oh mio dio Niente niente sto zitto E' un incubo E' un incubo Dai Vale no ti prego Non puoi lasciarmi così c'è metà vita ancora Io pensavo fosse già morto La donna dai Vabbè ci chiama inferno ma che cazzo mi stupisco Oh madonna Sì 128 di danno Il laser No vabbè ma come devo fare io Dai Vale dai Dai Vale è un cazzo Ma come fai Fermo fermo ho capito il moveset Fermati Ok mani mani vanno ovunque Ok vabbè ghiaccio mani Con la tempesta alle spalle siamo pronti ad affrontare un boss molto 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 fastidioso Non si può dire che la roba non ho capito Dai no Ecco Tutti Tutti Morto Madonna Ma che cazzo di mozzo di mozzo di merda è questo Questo è il boss peggiore che abbiamo fatto finora ne sono sicuro Direi che è arrivato il momento di andare nell'inferno e prenderci le cose che possono esserci Guarda che belle le case della caverna Ah tu vai a sinistra o io vai a destra Ok No va Flamelash Flamelash Uncente 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 Ma perché c'hai questo inglese super legnoso Uncente Sono entrato nelle Brimstone Craig Credo che questo sia uno dei miei biomi preferiti Guarda che bello sto posto Maledizione Tu hai trovato qualcosa di nuovo Trovato Cosa Ma che cavolo Ah c'è la presentazione pure in The Profaned Garden Che diavolo è Leggi Tre discepoli Una mente Un deity che non so cosa sia Temprato con le fiamme benedette di Providence Un antico artefatto cristallizzato Ha il solo scopo di inizializzare il rituale per il confine di questo tempio Un antico Oh 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 Cosa c'è Arrivo arrivo Oh 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 no Ma immagino che sta roba non si può scavare Infatti No non te la fa neanche picconare proprio Questa roba qui Mi ricorda il cristallo di Providence Nel senso proprio Sai no che Lei c'ha in mezzo un cristallo incassonato E poi tutto il resto del corpo Non gli fa d'armatura Che poi si dice che il Cioè Providence stessa sia il cristallo Non quello che c'è fuori Vabbè andiamo a casa Ho qui pronta l'armatura E l'equipaggiabile Muniti per farci andare nell'abisso Perché queste bolle stupide non esplodono quando le colpisco Oh Niente c'è un coccodrillo Velocissimo Che mi sta inseguendo E non vuole lasciarmi vivere in pace Sei pronto ad immergerti vale Vai Andiamo allora Oddio Che cazzo sono Morto Complimenti Ok Madonna come cambia quella zona Cos'è sto posto Cos'è sto miner Oh Guarda quanto minerale Non posso scavarlo Madonna Non brucia Morto I geyser mi hanno distrutto Cos'è sta roba Tipo il fisio Mi ha mai shottato Mi sa che non siamo pronti Oddio No Io direi che No Non siamo pronti per stare nell'abisso Lasciamo perdere Allora slime god Serve l'overload De sludge Teoricamente Se io utilizzo questo skybridge builder Posso andare a fare un ponte lungo tutto il mondo Mi l'ho usato con cautela Perché se no facciamo danni 3 2 1 Slime god Ok Sei un po' troppo veloce Bello questo attacco incrociato che fanno Ok Uno è morto Ho paura Ho paura del core Ecco Ecco infatti Eh no Adesso io questo non riesco a colpirlo Dai è piccolissimo Sto cosa Ecco Sono morto Morto L'ho avanzato Ma dai Aki ma dopo il deerclops non puoi mettermi una roba del genere Devo dire Devo dire Mi ha deluso Lunarian bow Che figo Cosa C'è un arco che crafto con tutti gli archi pre-hard mode più forti Moltenfury The big knees Tendon bow E demon bow E purify germ Mi ricordate lo skybridge builder Bene Allora adesso dobbiamo Adesso dobbiamo usarlo per craftare Un oggetto molto Ma molto Più potente Il minecart or platform builder Ci sarà molto utile per fare l'arena Eh Ci sarà molto utile per fare l'arena del wall of flash Qua Oh Cristo Ok direi che così C'è abbastanza spazio Eh aspetta Hanno suonato Arrivo Ragazzi a chi sta per morire Preparatevi Prima morte No perché sono qua a casa Caro il mio goblin Dammi un bar reforger Powerful Non lo voglio Quick Non lo voglio No No Oh grazie Va bene ci sei Inutile Vai ci sono 3 2 1 Via Eccolo lì Oh mio dio ragazzi Oh mio dio Cosa cazzo No 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 Morto No 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 vale Non puoi Ah ma non gli sto togliendo vita Devo prima uccidergli tutti gli occhi Uno è morto Ho paura di scoprire quanto Oh 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 Ah Morto Mi manca uno di occhio Ok vai 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 Tanto i miei pericoli sono lecce Vai la bocca Dio Eccomi Veloce Grande 70 di danno Ma che piano 9 secondi Merda Non ci credo Ho capito No è facile È facile Ecco Grande Morto Va bene vale Va bene 4 3 2 1 Vale No Oddio 1 Grande Mamma mia Oh Che cazzo Eh sì Sì vabbè Ballettelle Al 21 Al 21 Dai 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 Noi no no Aiuto No 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 ce la faccio No Porco No Quanto era che non ho visto la vita io 9 9 No come 9 Occhio Corri 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 Morro No Perchè ho saltato come un treno Guarda quello Guarda che grande Grande amico mio 9 secondi Dai vale dai 15 10 10 9 No Oh Mori Mori merda 2 Ti sconfigo io Ti sconfigo io Sei morto Sei morto Sei morto Hai qualche commento dopo questa boss fight? Basta Adesso inizia il vero inferno Perchè adesso siamo in hard mode E Ecco Ciao paura Hehehehe Hehehe Hehehe